Rifiuti speciali, anche pericolosi, venivano interrati nel suolo, anche sottoterreni agricoli, alcuni dei quali sono risultati gravemente contaminati da sostanze altamente nocive, con valori che in alcuni casi sono arrivati al 6.000% sopra il limite previsto, con il concreto pericolo di contaminazione anche della falda acquifera sottostante. E' quanto emerso nel corso delle indagini Malapigna dei carabinieri forestali coordinate dalla DDA di Reggio Calabria che ha portato all'arresto di 19 persone, 10 domiciliari, all'obbligo di dimore e altri nuovi indagati per obbligo di presentazione. La filiera dei rifiuti partiva da Gioia Tauro e arrivava fino al nord Italia, gestirla era la cosca di Indrangheta Piromalli. Sono finiti in carcere esponenti dei vertici della famiglia mafiosa, ma anche imprenditori di riferimento della cosca Piromalli. Tra i destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare c'è anche l'avvocato ed ex parlamentare Giancarlo Pittelli, già imputato nel maxiprocesso rinascita Scott della DDA di Catanzaro. Anche in questo caso l'accusa per l'ex senatore di Forza Italia è concorso esterno in associazione mafiosa. L'ordinanza è stata notificata all'avvocato nella sua abitazione dove si trovava agli arresti domiciliari. Dopo le formalità di rito l'avvocato ed ex parlamentare sarà accompagnato nella casa circondariale. Tra persone fisiche e società sono in tutto 44 gli indagati. Per quanto riguarda Pittelli, secondo la DDA era uomo politico, professionista, faccendiere di riferimento, avendo instaurato con l'Andrangheta uno stabile rapporto. Questo rapporto per i PM era caratterizzato dal perdurare della reciproca disponibilità. Pittelli avrebbe garantito la sua generale disponibilità nei confronti del sodalizio a risolvere i più svariati problemi degli associati, sfruttando le enormi potenzialità derivanti dei rapporti del medesimo con importanti esponenti delle istituzioni e della pubblica amministrazione. Secondo gli investigatori, infatti, l'ex senatore Pittelli aveva illimitate possibilità di accesso a notizie riservate e a trattamenti di favore. Per questo veicolava informazioni all'interno e all'esterno del carcere tra i capi della Cosca Piromalli, detenuti in regime carcerario ai sensi dell'articolo 41 bis. I bossi che avrebbero usufruito del rapporto con Pittelli sono Giuseppe Piromalli, detto facciazza, e il figlio Antonio Piromalli, reggente della Cosca. All'operazione denominata Malapigna hanno partecipato anche i carabinieri forestali delle parti in Calabria, Sicilia-Lombardia ed Emilia-Romagna con il supporto dello squadrone riportato Cacciatori Calabria e militari dell'ottavo nucleo elicotteri carabinieri di stanza Ribo-Valenzia.